La Nissa riprova a ripartire dopo un periodo non positivo e lo farà da domenica al Marco Tomaselli alle ore 15 contro il Castellammare. La sconvitta di domenica scorsa al Nino Vaccara contro la Mazzarese potrebbe portare con sé delle scorie non indifferenti e la partita contro il Castellammare diventa un banco di prova importante per gli uomini di Alessio Sferrazza che cercano anche da parte della propria tifoseria la spinta necessaria per ritornare alla vittoria. Nissa anche sfortunata in questo ultimo periodo tra sconfitte nei minuti finali di gara e gol subiti da metà campo come quello realizzato dal giocatore della Mazzarese Gioacchino Giardina che ha stabilito il nuovo record di gol più veloce della storia del calcio italiano spodestando addirittura l'attaccante del Milan Rafael Leao. I biancoscudati vincendo possono uscire oltre dal periodo di crisi anche da una zona calda di classifica che potrebbe compromettersi in un nuovo passo falso. Eccellenza Girone A ventiduesima giornata Acragas Parmonval, Casteldaccia Mazzarese, Leonfortese Gus Palermo, Mazzara Nuova Città di Gela, Nissa Castellammare, Oratorio San Ciro e Giorgio Profavara, Resuttana Enna, Sciacca Don Carlo Misilmeri.